Anno del Signore 1205 Irritato dalle infusioni di incenso e dal palpitare delle candele, varcò il portale d'ingresso e passeggiò per la corte innevata. Davanti ai suoi occhi il crepuscolo soffocava gli ultimi spicchi di luce diurna. Un'improvvisa raffica di vento lo investì, suscitando l'imprivito fior di pelle. Il monaco si strense nella tonaca e ingrespò la fronte, come se avvisse ricevuto un'ingiuria. La sensazione di disagio che lo accompagnava dal risveglio non accennava ad abbandonarlo, anzi, si era inasprita durante il corso della giornata. Persuoso a mitigare l'inquietudine, con un po' di riposo, deviò il cammino verso il chiostro, ne attraversò il colonnato e penetrò nell'imponente dormitorio. Fu accolto dal chirore giallognolo delle fiaccole e da una successione di vani angusti, a dir poco soffocanti. Indifferente a quella morsa claustrofobica, vivia in percorso un labirinto di corridoi e scale, sfregandosi le mani per il freddo. Sentiva il bisogno di coricarsi, di non pensare a nulla, ma quando giunse davanti all'uscio della sua cella, trovò ad attenderlo un particolare inaspettato. Un pugnale a forma di croce era conficcato sulla porta d'ingresso. Dall'elsa di bronzo pendeva un biglietto arrotolato. Il monaco lo fissò per un istante, in preda a un terribile presagio, finché non si fece coraggio e decise di leggerlo. Il messaggio era breve e spaventoso. Vivienne Denerbonne, colpevole di necromanzia. Sentenza emessa dal tribunale segreto della Saint-Vemme. Ordine dei franchi giudici. Vivienne catta in ginocchio, atterrito. La Saint-Vemme, i veggenti, come avevano fatto a scovarlo in quel rifugio arruggato sulle Alpi? Dopo anni di fuga, pensava ormai di essere al sicuro d'aver fatto perdere le proprie tracce. Invece no, l'avevano ritrovato. Non c'era tempo per disperare. Doveva fuggire ancora una volta. Si alzò sulle gambe tremanti, intorpedito dalla paura. Spalancò la porta della cella, raccolse pochi oggetti e la rinfusa, e si diresse spedito verso le stalle, coprendosi con un mantello pesante. All'improvviso, i corridoi di pietra parvero restringersi, infongergli la paura per gli spazi chiusi. Uscito dal dormitorio, si accorse che l'aria era divenuta più fredda. Il vento ululava, flagellando le nupi e le fronte scheletriche degli alberi. I confratelli induggiavano dentro il monastero, appolti dal tepore sacrale della navata maggiore. Vivian si strinse al mantello e dentro nelle scuderie. Sellò un cavallo, lo montò e percorse a trotto il porco di San Michele. Grossi fiocchi di nevischio iniziarono a cadergli sulle spalle, inzoppando il tessuto lanoso dell'abito. A farlo tremare, tuttavia, erano i pensieri. Si aspettava un acquato da un momento all'altro. Giunto che fu presso il barco delle mura, gli andò incontro un monaco infaccottato in una tonaca. Era padre Geraldo da Pinerolo, il cellario. Tirò indietro il cappuccio, scoprendo una lunga barba corvina e uno sguardo attonito. Dove vai, fratello? gli domandò. Rientra prima che si scateni la bufera. Vivian lo rispose e proseguì verso l'uscita. Pregando di essere ancora in tempo per la fuga. Ma al barco l'attendeva un carro trennato da due cavalli neri come la notte, con un solo uomo seduto alla serba, un emissario di morte. Il fuggitivo passò oltre, fingendo indifferenza. Tenne il viso nascosto sotto il cappuccio, attento a non incrociare lo sguardo del cocchiere. Geraldo, invece, si avvicinò allo sconosciuto e lo osservò. Era un tipo imponente, indossava un ampio cappello e un mantello nero. Nulla di particolare a prima vista, ma quando lo sguardo in faccia non poteva più levare gli occhi di dosso. Il volto di quell'uomo aveva il colore del sangue ed era increspato da un ghigno infernale. Nel frattempo, Vivian aveva spronato il cavallo e si era lanciato al caloppo lungo il pendio, in direzione della valli Susa. Avrebbe voluto fuggire in più fretta possibile, ma la neve, mescolata al fango, rendeva il sentiero impraticabile e lo costringeva a procedere con cautela. Lo scuro cocchiere riconoppe il fuggiasco e a quel punto aizzò i cavalli e lanciò il carro all'inseguimento. «Vivian de Narbonne, fermatevi!» urlò con rabbia. «Non potete nascondervi in eterno dalla San Vemmo!» Vivian non si voltò neppure, la mente allucinata dalla vertigine di pensieri. Udiva dietro di sé il rollare del cocchio, sempre più vicino. Lo stava raggiungendo. Come poteva essere tanto veloce e non consentire così accidentato. Quelli non erano cavalli, erano demoni dell'inferno. Le parole dell'inseguitore non lasciavano dubbi. Dove adattarsi di un emissario dei franchi giudici. I vecchianti volevano il libro. Sarebbero stati disposti a tutto per ottenerlo. L'avrebbero torturato fino a renderlo folle pur di sapere, pur di imparare come attingere la sapienza degli angeli. Ma era una morte. Con le lacrime agli occhi, il fuggitivo strinse le briglie e incitò il palavrino ancora più svelto. Ma il cavallo si accostò troppo al ciglio del burrone. Il terreno, reso molle dal nevischio e dal fango, franò sotto il peso degli zoccoli. L'animale scivolò e vivianco a lui, precipitando entrambi sul fianco della montagna. Le grida del monaco, confuse nitriti e cheggiorno nella caduta fino a perdersi nel buchio della bufera. Il carro si fermò. Lo scuro cocchiere è sceso a terra e scrotò l'abbisso. Ora l'unico a sapere è Ignazio da Toledo, pensò. Bisogna trovarlo. Portò la mano destra al volto, toccando una superficie troppo fredda e dura per appartenere agli elementi umani. Con un gesto quasi relottante, strinse la presa sulle cote e rimosse la maschera rossa che nascondeva la sua vera faccia. Parte prima, il monastero degli inganni Chi fosse realmente Ignazio da Toledo, nessuno avrebbe saputo dirlo con certezza. A volte fu giudicato sanccio e culto, a volte infido e necromante. Per molti era solo un pellegrino, girovaco da una terra all'altra, in cerca di reliqui da vintere i devoti e i potenti. Finché evitassi di rivelarle le proprie origini, i suelenamenti imoreschi, gli incendi lieti della carnagione chiara, parlavano fin troppo dei cristiani visuoli in Spagna a contatto con gli arabi. Il capo, completamente rasato e la barbabum plumbea, gli conferivano un'area tutturale, ma erano gli occhi a catturare l'attenzione. Smeraldi verdi penetranti incastonati fra rughe geometriche. La sua tunica grigia, coperta da un mantello con cappuccio, emanava la fragranza delle soffie orientali, intresi di rome per il tanto viaggiare. Alto e magro, camminava appoggiandosi a un portone. Questo era Ignazio da Toledo, e così lo vide per la prima volta il giovane Uberto, quando la sera piovosa del 10 maggio 1218, il portone del monastero di Santa Maria del Mare si aprì. Entrò un'altra figura incappiucciata, seguita da un uomo biondo, che si trascinava dietro un grosso paule. L'abbate Rainero de Sandonnino, che aveva appena finito di recitare l'ufficio del Vespro, riconobbe subito il forestiero con il cappuccio e li andò incontro. Mastro Ignazio, da quanto tempo esordì benevolo, facendosi l'arco tra le schiere di monaci. Ho ricevuto il messaggio del vostro arrivo, ero impaziente di rivedervi. Venerabile Rainero, Ignazio, c'è un nonnichino, vi lascio semplice monaco e vi ritrovo a bate. Rainero aveva il viso dominato da un marcato naso aquilino. I capelli castani e corti si piovevano in ciocchi disordinate sulla fronte. Prima di ribattere, a basso lo sguardo esifice il segno della croce. Così ha voluto il Signore, ma in urfo da Silva Candida, il nostro vecchio abbate, ed è ceduto l'anno scorso, una grave perdita per la nostra comunità. A quella notizia il mercante emise un sospiro amareggiato, non prestava molta fede alle vite dei santi e dubitava della proprietà miracolosa e delle reliquie che spesso trasportava da paesi lontani. Ma in urfo, lui sì, era stato santo. Non aveva mai rinunciato alla vita eremitica, neppure dopo la nomina impaziale. Era solito ritirarsi periodicamente lontano dal monastero per pregare in solitudine. Nominava un vicario, si metteva una pisaccia a tracolla e raggiungeva un eremo fra i canniti della vicina laguna. La cantava i salmi e digionava in solitudine. Ignazio ricordò la notte in cui l'aveva conosciuto, a quei tempi, mentre fuciva disperato, si era rifugiato proprio nel suo eremo. Ma in urfo l'aveva accolto e si era offerto di aiutarlo, e il mercante aveva induito che poteva metterlo a parte del suo segreto. Erano trascorsi quindici anni, e ora la voce di rene risuonava alle sue orecchie dissipando i ricordi. E' morto nel eremo, non ha resistito al rigore dell'inverno. Noi tutti avevamo insistito perché rimandasse il ritiro a primavera, ma lui diceva che il signore lo chiamava a suo raccoglimento. Dopo sette giorni l'ho trovato morto nella sua cella. Dal fondo della navata si udì qualche monaco sospirare per il dispiacere. Ma ditemi Ignazio, continuò Reiner, notando come il mercante si fosse agiliato. Chi è il compagno silenzioso che vi portate appresso? L'abbate osservò l'uomo piondo al fianco del mercante, poco più di un giovane dire il vero. I capelli lunghi, leggermente mossi, ne incorniciavano il collo, posandosi sulle spalle robuste. Gli occhi azzurri sembravano quelli di un fanciullo, ma i contoni del viso erano decisi, scolpiti dall'espressione rigida delle mascelle. L'uomo fece un passo in avanti e si inchinò per presentarsi. Parlò con l'accento della long talk, macchiato da un'imprecisata cadenza esotica. Willamme de Bezier, venerabile padre, l'abbate ebbe un lieve sussulto. Sapeva bene che la città di Bezier era stata covo di una setta di eretici. Fece un passo indietro e fissò lo sconosciuto, bisbigliando tra i denti. Al bicensis, al suono di quella parola, sul volto di Willamme si disegnò una smorfia rocigna. Dagli occhi balenò rabbia, poi sopraggiunse un senso di tristezza, come di un dolore non ancora subito. Willamme un buon cristiano non ha nulla a che vedere con l'eresia albicese o catara, intervenne Ignazio. È vissuto lontano dalla propria terra per molto tempo. L'ho conosciuto mentre facevo il ritorno della terra santa e siamo diventati compagni di viaggio. Si ferma qui solo per la notte, ha affare da spiegare altrove. René lo studiò al punto del francese, che aveva tanto da nascondere sotto con lo sguardo sfuggente, poi a lui. All'improvviso parvi ricordarsi di qualcosa, e si volto verso l'ultimo panche del monastero. Alberto chiamò, rivolgendosi a un ragazzetto morosi con i confratelli. Vieni qui un momento, ti voglio presentare una persona. Proprio allora Alberto stava interrogando alcuni monaci sul conto dei due visitatori, che non aveva mai visto prima. Un confratello gli stava rispondendo sotto voce. L'uomo alto con la barba e il cappuccio è Ignazio da Toledo. Si dice che durante il zanco di Costantinopoli abbia messo le mani su alcune reliquie, ma anche sulle più preziosi, certi addirittura di magia. Pare che abbia trasportato il bottino a Venezia, ricavando grandi ricchezze e le favore della nobilità di Rialto. Ma in fondo è un buon uomo. Non per nulla era amico della patema in urfo. Aveva un intenso rapporto di corrispondenza. Sentendosi richiamare da Rai Nero, il ragazzo concedò all'interlocutore e si diresse verso il piccolo gruppo, raccolto all'ombra del vestibolo. Solo allora Ignazio abbassò il cappuccio e scoprì il volto, quasi per guardarlo meglio. Studiò con discrezione il suo viso, i grandi occhi ambrati, i volti capelli neri. Dunque, tu saresti aperto, esordì. Il ragazzo ricambiò lo sguardo. Non aveva idea di come rivolgersi a quell'uomo. Era più giovane di Rai Nero, eppure emanava un'aura ieratica che imponeva riferenza. Affascinato, appassò gli occhi verso i calzari. Sì, mio signore. Il mercante sorrise. Mio signore, non sono alto per lato. Chiamami per nome e dammi del tu. Operto si rasserenò. Gettò uno sguardo in direzione di un'alba, impassibile e attento. Dimmi, calzò Ignazio, sei un novizio. No, intervenirei Nero. È un Sofia, padre Appate, lasciate parlare il ragazzo. Non sono un monaco, ma un converso, rispose Operto, sorpreso dalla confidenza con cui il mercante trattava Rai Nero. Mi hanno trovato i contratelli quando ero ancora in fasce. Sono stato cresciuto, istruito in questo luogo. Il volto di Ignazio si verò per un attimo in tristezza, poi torna a esprimere un distaccato contegno. È un ottimo manuenze, soggiunse Rappate. Capita spesso che gli faccia copiare i brevi codici o compilare i documenti. Aiuto come posso, mi si è Uperto, più con imbarazzo che con motestia. Mi è stato insegnato a leggere e a scrivere latino. Esito un attimo. Poi, tu, hai piaciuto molto. Il mercante a noi, appuzzando una smorfia che noteva la fatica accumulata nel suo peregrinare. Sì, ho visitato molti luoghi, disse. Se lo desideri, potremmo parlarne. Mi fermerò qui per qualche giorno per concessione della Pate. Il re nero atteggia il volto di un'espressione paterna. Mio caro, come già scrivete in risposta alla vostra lettera, siamo lieti di accogliervi. Riposerete nella foresteria vicina al monastero e potrete cenare nel rifettore assieme alla famiglia monastica. Prenderete posto al mio tesco stasera. Ve ne sono grato, padre. A questo punto chiedo il premesso di deporre il mio paule nella stanza che ci avete assegnato. Quell'alme l'ha trascinato fin qui, da dove ci ha sparcato il traghettatore, ed è molto pesante. La Pate a noi oltrepassò il vestibolo e si affacciò all'esterno. Cercava qualcuno. O il cos'è lì? Poggiò, scrutando attraverso il grigio refittissimo dello scroscio. Uno strano figuro si avvengò giondolato, incupito per via di una fascina caricata sulle spalle. Sembrava che la pioggia non lo infastidisse. Non era un monaco, un villano piuttosto meglio, uno di quei servi casati con cui venivano affidate le faccende pratiche del monastero. Doveva essere ulgo. Farvugliò qualcosa in un vernacolo incomprensibile. Re nero, visibilmente infastidito dal dover impartire ordine al servo in prima persona, parlò come se stesse domesticando un animale. Bene, figliolo. No, lascia stare la legna. Appoggiala lì, bravo. Prendi una cariola e aiuta i signori a portare questa cassa alla foresteria. Sei là e pata non farla cadere. Bravo, accompagnali. Cambiando espressione si rivolse di nuovo agli ospiti. È rude. Ma mansueto, seguitelo. Non avete bisogno d'altro. Vi attendo a breve in refettorio per la cena. Concidati Reiner e Roberto, i due compagni si incamminarono al signo di Ulgo, che, deposta la fascina, continuò a camminare, incompito ed inuncolato, affondando i talloni nel pantano. Spioveva. Le nuvole lasciavano spazio il fossore del crepuscolo. Durme di ronde, gli stridenti turbinavano nell'aria, accompagnate da un vento truso di salsetina. Raggiunta la foresteria, Ulgo si rivose due visitatori. Gli ultimi spiragli di luce di urna illuminavano il suo corpo scraziato. Sotto una cuffia cenciosa si scorgevano giuffi di capelli ispiti e un naso pedosoluto. Una casacca sudicia e un paio di brachlise alle ginocchie completavano un miserabile ritratto. Tom e gli illustrissimi piascicò. Seguino indicibile, miscela maccheronica. A intendere, loro signori desiderano che porti dentro il baule. Dopo un cenno di assenso, il servo sollevò la cassa dalla cariola e la trascinò con fatica all'interno dello stabile. La foresteria era edificata quasi integralmente in legno, con le pareti rivestite da graticcia di incancinata. All'entrata, dietro un bancone, attendeva un figuro con una casacca di guarnello e due occhi da civetta. Ginesio, il gestore, salogò i preleghi nini e dichiarò che il lappate aveva ordinato di riservare per loro stanze. La foresteria era edificata quasi integralmente in legno, con le pareti rivestite da graticcia di incancinata. All'entrata, dietro un bancone, attendeva un figuro con una casacca di guarnello e due occhi da civetta. Ginesio, il gestore, saluto ai pellegrini e dichiarò che il lappate aveva ordinato di riservare per loro la stanza più confortevole. Salite, la terza porta sulla destra conduce al vostro alloggio, disse con un sorriso Karilov, indicando una rampa di scale diretta al piano superiore. Per qualsiasi cosa chiedete pure a me, buona permanenza. Ginesio e Ullame seguirono le istruzioni di Ginesio. Superati i gradini, si ritrovarono in breve davanti a una porta di legno. Un vero russo valutò al mercante, che era abituato a riposare in dormitori collettivi dove i giacigli venivano separati da semplici tende. Ulco, esausto, si fermò dietro gli ospiti. Basta così, grazie. Accenna a Ginesio. Torna pure le tue faccende. Il servo depose il grado, il paure, salutò con l'inchino e si allontanò con l'ormai familiare andatura di noccolata. Quando furono sole, Ullame parlò. Ora che si va? Prima di tutto nascondiamo il paure, rispose il mercante. Poi andiamo a cena. Siamo attisi al tavolo dell'abbate. Non credi esserli molto simpatico, al tuo abbate, commentò il francese. Ignazio sorrise. Ci tenevi forse a farti un amico? Come previsto, non ottenne risposta. Ullame era un tipo di poche parole. ed entrando nella stanza raggiunse. Ricorda, domani dovrei partire all'alba, vada che nessuno vi da dove sei diretto.